un segno scrivete uno per esempio si vede si sente ok ok iniziamo buonasera buonasera e benvenuti oggi questa serata abbiamo dedicato al nuovo progetto della nostra comunità VECO il progetto che si chiama WebToken Profit Binario faccio partire un attimo il slide eccolo qua allora di cosa si tratta sapete bene già da terzo anno che lavoriamo la nostra società la nostra comunità che sta espandendo sta lavorando e fa permettere alle persone di cambiare le proprie vite e quindi questo progetto unisce diciamo un misto tra progetto tra un guadagno passivo e guadagno attivo e ci permette alle persone di con anche con poco investimento di raggiungere alti risultati andiamo a vedere cominciamo a capire prima cosa il progetto funziona con token RA il token RAIDO è stato creato sul blockchain Tron e ora diciamo che tutti i progetti della comunità passano al token RAIDO perché la moneta VEC diciamo che sta prendendo il suo posto per quale è stata creata e quindi la moneta VEC dato che è limitata come emissione quest'anno è già raggiunto il suo limite e quindi è stato deciso di far funzionare tutti i progetti alla moneta RAIDO invece la moneta VEC dato che la moneta RAIDO ha l'emissione di 100 milioni di monete e quindi va distribuita in tutti i progetti e va regolata invece la moneta VEC non sarà più difficile a mainare diciamo però si può sempre comprare e tenerla tenerla perché aspettiamo quando si espande la comunità e si crea, si apre il piattaforma per il commercio e là viene utilizzata la moneta VEC e allora il suo valore salirà quindi per il momento ci accontentiamo della moneta RAIDO e ci utilizziamo o impariamo a utilizzare che è la stessa cosa come moneta VEC solo che si chiama diversamente allora il WebTokenProfit è un progetto binario che ha questo diciamo come prodotto e il proprio investimenti i progetti di investimento e come binario ci sono due rami per esempio per ottenere dei profitti dobbiamo creare una rete a due rami una a sinistra e una a destra e quindi ci permette con un investimento a tasso vari tassi ora andiamo a vedere un po' al dettaglio ci permette di ottenere un profitto passivo quindi si inizia con la prima tariffa quella standard che ha 0,8% e funziona 220 giorni quindi sono giorni feriali sabato e domenico non vengono effettuati i pagamenti quindi a 220 giorni dovete aggiungere anche quel resto il deposito va da 100 dollari fino a 5.000 ed è per un profitto totale si accumula 176% abbiamo la possibilità di espandere diciamo il deposito raggiungendo al minimo 30% del deposito fatto quindi per esempio se noi mettiamo un 1000 dollari per 0,8% aggiungiamo quando vogliamo fare un rinvestimento aggiungiamo un altro 30% non di meno di più si può e quindi così facciamo espandere il nostro deposito e guadagniamo di più in arco di un anno si potrebbe fare un calcolo che andremo poi a vedere anche al dettaglio come si può aumentare il suo deposito invece quando il deposito va raggiunto 5.000 dollari automaticamente passa alla tariffa premium a 0,9% e la sua durata è di 250 giorni il profitto totale andremo a 225% e successivamente andiamo a arrivare a lux al maximum e ci sono anche delle tariffe promo ad 1% al giorno che durano 350 giorni allora questi diciamo queste tariffe promo sono valide fino al 4 luglio del 2021 ed vengono effettuati ogni domenica nel frattempo abbiamo anche ad 1% la tariffa maximum che parte da 40.000 dollari in poi su tutte queste tariffe non abbiamo bisogno di o necessità di una licenza questi qua questo qua è il guadagno passivo che abbiamo otteniamo con la moneta RA utilizziamo sempre la moneta RA il profitto otteniamo si calcola in dollari però va effettuato il cambio con la moneta RA eccolo qua qua si dice che l'investimento viene effettuato in RAIDO e il profitto viene pagato in dollari convertito in RAIDO allora l'upgrade sarebbe reinvestimento è possibile come ho detto da 30% di investimento esistente ok abbiamo termini di apertura e funzionamento dei depositi secondo il piano tariffario selezionato e questi sono termini per diciamo per non superare l'emissione della moneta e quindi sono un milione di dollari a settimana più di quello viene bloccato non vengono più accettati i depositi finché non passa la settimana prossima chi l'ha fatto già ha partecipato al web token profit primo potrà diciamo come dire confermare il suo rango che è fatto già prima e facendo un deposito corrispondente per necessario creare un investimento non inferiore al deposito richiesto dal grado se no invece dovrà aspettare quando il suo deposito arriva a quella cifra questo per le persone che hanno già partecipato il web token profit binario primo allora adesso andiamo a vedere come possiamo ottenere il bonus binario e anche il bonus lineare se noi dopo aver fatto il deposito compriamo la prima licenza che costa 50 dollari noi apriamo il bonus binario il bonus binario va calcolato sulla somma di tutti e due rami però si calcola il ramo più piccolo per esempio se andiamo a vedere un attimo un po' su qua questo diciamo siamo noi abbiamo questa parte del ramo questa parte è la parte del nostro il sponsor della persona che ha invitato questo invece è il nostro privato diciamo e vediamo il volume complessivo nel volume della parte del nostro invitato dello sponsor noi vediamo per esempio 1500 dollari per dire uno di queste persone ha fatto un deposito a 500 dollari qua invece vediamo 3000 dollari il bonus binario noi otteniamo dal ramo più piccolo sarebbe da 1500 dollari quindi viene pagato 10% sarebbe 150 dollari dopodiché questo pagamento viene effettuato a mezzanotte alla fine di ogni giornata e quindi giorno dopo noi avremo quindi questa cifra va tolta dal volume complessivo quindi quando otteniamo il bonus giorno dopo da questo dalla parte più grande va estratto la cifra corrispondente quindi giorno dopo noi avremo 1500 dollari qua nel volume privato poi la seconda licenza a 300 dollari sempre abbiamo bonus binario tutte le licenze hanno bonus binario diciamo che per avere il bonus binario ci vuole solo le licenze da 50 dollari invece la seconda licenza a 300 dollari vi apre anche la possibilità di ottenere 5% dal volume della prima linea da tutti invitati nella vostra prima linea questo è un bonus lineare dalla licenza numero 3 da 1000 dollari voi ottenete altri 3% quindi avete 10% del bonus binario 5% della prima linea e 3% della seconda linea successiva licenza da 3000 dollari avrete sempre bonus binario da 10% 5% nella prima linea 3% nella seconda linea e 1% nella terza linea poi abbiamo anche l'X factor che cos'è l'X factor sarebbe la cifra più di quale non potrete cioè il vostro deposito non potrà non potrà essere aumentato cioè per esempio voi avete fatto il deposito di 1000 dollari più di 3000 dollari non potete guadagnare finché arriva il fattore X X3 voi dovrete a quel punto raggiungere un altro deposito fare l'upgrade per aumentare quella cifra comprando una licenza più grande avete la possibilità di espandere questa cifra quindi arrivare fino a 4,5 per i termini della licenza sono 200 giorni tutte le licenze funzionano 200 giorni quindi quando la licenza è finita dovete comprare un'altra per poter usufrire tutti questi bonus invece per per guadagno passivo la licenza non è necessita questo allora calcolo del profitto binario diciamo questo qua è uno un consiglio un consiglio più che altro di una strategia come come fare un guadagno facile quindi soltanto avete bisogno di insegnare a due persone utilizzare web token profit per chiamare due persone spiegare come funziona questo progetto quali i suoi vantaggi e queste due persone che cominciano a lavorare fanno il suo deposito quel deposito lavora anche come guadagno passivo e lo potranno soffrire anche dei bonus comprando le licenze se uno vuole guadagnare facendo creando la squadra creando un team il progetto web token profit ci permette di fare dei risultati molto alti quindi queste due persone vanno voi insegnate a queste due persone come utilizzare web token profit e ci aiutate di trovare anche a loro due persone così diciamo i vostri rami si cominciano a crescere crescendo vi danno il profitto non c'è fine del profitto perché bonus binario non ha una fine solo bonus lineare arriva alla terza linea del profitto ok poi le classifiche andiamo a vedere le classifiche su quali voi un attimo solo un attimo solo ecco diciamo queste classifiche edoniche riconosce l'azienda la comunità per le persone per i leader che crescono crescono nella comunità crescono le loro squadre e diciamo questi sono dei ranghi che si può raggiungere diciamo appena voi cominciate noi potete raggiungere il primo rango del partner che è il bonus fino a 1000 dollari al giorno e la presenza di un deposito valido questo tutto qui serve dopodiché arrivate al GED il bonus fino a 1500 dollari al giorno deposito 1000 dollari poi dovrete avere 25000 nel ramo più piccolo dei depositi e due partner personali in qualsiasi qualifica quindi in regalo avrete una una stemma con una pietra di zirconio quindi per GED dovete fare il deposito personale a 1000 dollari avere solo due partner qualsiasi qualifica solo due partner chiamati e avere 25000 dollari nel ramo più piccolo quindi i partner che ci hanno avete nel ramo più piccolo fanno 25 nel complessivo 25000 dollari di depositi poi Amethyst il bonus arriva a 2000 dollari al giorno avendo un deposito minimo di 2000 dollari 85000 nel ramo più piccolo due partner che hanno la classifica GED il rango in regalo la moneta d'argento vec e una stemma con una pietra ametista poi il topaz è il bonus fino a 2500 dollari al giorno allora il bonus voglio spiegare un attimo cos'è questo bonus diciamo quando voi potete ottenere il bonus binario per esempio una parte di vostri partner di sponsor 150 mila dollari qua qua avete voi 50 mila dollari ma se voi nel rango non il rango non vi permette di ottenere più di 1000 dollari o 1500 dollari se state nel rango GED voi quella somma complessiva diciamo del volume non lo potete usufruire quindi vi saranno dati solamente quella cifra quale vi permette di ottenere il vostro rango e diciamo tutti questi ranghi sono sono fattibili facilmente utilizzando per esempio questo questo semplice consiglio un semplice consiglio se voi utilizzate chiamate due persone ci aiutate a loro di capire come funziona che cosa si può ottenere in questo progetto di vedere le possibilità loro stesso loro cercano di espandere il loro team e un mese due persone un altro mese altre due persone così pian piano durante un anno voi arriverete a 100 a 150 a 200 mila dollari vedrete che questa non è una cosa che non si può fare facilissimo facilissimo basta solo trovare due persone e cercare di capire insieme a loro aiutare a capire il piano marketing che è molto facile e ci permette veramente di arrivare a guardate ora per essere un po' più arriviamo a Emerald il bonus che potete ottenere fino a 3.500 dollari al giorno il deposito vostro personale deve essere fino a 20.000 dollari 800.000 dollari nel ramo più piccolo quindi due partner con la classifica JED e Saphir e due di Topaz in regalo più ottenete 20.000 dollari più viaggio un viaggio più una stemma in metallo con la pietra Smeraldo incrustato con Smeraldo successivo rango e il Ruby bonus fino a 4.000 dollari bonus sempre binario potete ottenere fino a 4.000 dollari al giorno il deposito deve essere il vostro personale 30.000 dollari 1.800.000 dollari nel primo nel ramo più piccolo due partner Emerald e due Saphir regalo il Mercedes Benz classe A 200 progressive stemma in metallo con con rubino poi prossimo rango è l'acqua marine acqua marine può guadagnare fino a 4.500 dollari al giorno il suo deposito deve essere 60.000 dollari 7.500.000 dollari nel ramo più piccolo due partner ruby e due partner Emerald nel diciamo nel suo team il regalo dalla società c'è Mercedes CLA 254 Matic distintivo diciamo la stema acqua marina argento con incisione di acqua marina arriviamo ai nostri ultimi più grandi ranghi è il diamond e black diamond diciamo bonus fino a 5.000 dollari al giorno potrà ottenere e 6.000 al giorno corrispondente deposito da 100.000 dollari e 150 il 14 milioni nel ramo più piccolo per diamond e 35 per black diamond 2 aquamarine 2 ruby e 2 diamond 2 aquamarine per black diamond il regalo per diamond può ottenere un automobili Mercedes Maybach da 650 mila dollari mi pare distintivo di oro in diamond con incisione di diamante e poi il black diamond a parte di tutti questi bonus da 6.000 dollari al giorno che potrà guadagnare deposito può avere un regalo una villa al costo di 500.000 dollari in qualsiasi posto del mondo a scelta è una stemma in oro con incrustazione di diamanti neri questi sono i doni che vi riconosce la società per il vostro lavoro per il vostro aiuto dell'espansione della società quindi vedete che le possibilità sono altissime le possibilità sono aperte a tutti sia per per una persona che vuole guadagnare solo passivo quindi con un deposito si guadagna diciamo una cifra che nessuna banca può permettere invece facendo l'attività facendo un po' se si impegna e si comincia a crescere creare una squadra si fa diciamo dei risultati si può ottenere dei risultati che è difficile neanche immaginare ma sono fattibili tutti tutti questa era un diciamo un breve un breve una breve presentazione ora se avete le domande possiamo sarò lieto di rispondere andiamo un attimo a vedere più magari più in dettaglio ci saranno delle domande credo aspettate un attimo adesso vi apro la chat ok luigi riguardo la licenza ma mi ha sposto già durante la presentazione perché scade la licenza perché scade la licenza e le licenze hanno il suo termine 200 giorni soltanto questo è il piano marketing che abbiamo ci sono altre domande è stato chiaro tutto quindi luigi ti volevo anche dire che se hai visto tutte le licenze della compagnia hanno una scadenza se avete partecipato a altri programmi solo forse ProfitBot non ce l'aveva la licenza invece tutti gli altri programmi ce l'hanno la licenza per forza bene se non ci sono più le domande quindi io vi saluto a tutti spero che anche se voi avrete le domande in futuro potete sempre rivolgersi al chat italiana che abbiamo nel telegram e quindi siamo sempre a disposizione tranquillamente potremo anche qualche volta creare una conferenza zoom per parlare insieme e vedere insieme qualche strategia questo sarà anche molto utile scrivete nella chat va bene allora grazie a tutti è stato un piacere arrivederci arrivederci a prima un piacere